...dalle Yamaha, attenzione Brianti, che va a difendere la sua staccata, Sofoglu, soggetto all'interno, nell'ingresso della bucina, Brianti ha preso un buon margine, un buon margine, anche se è uscito largo e ha perso velocità, ha perso tanta velocità, ha sbagliato l'uscita, ha sbagliato l'uscita, e quindi Sofoglu, che si porta avanti, arriva anche Vannucci, 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 Vannucci! Sì, sì, grande! Matteo, Vannucci, che vittoria! Pannucci, Vannucci, Vannucci, una gara incredibile, un finale al Carcopalmo! Eh sì, è stata una bella gara, molto dura, però ce l'abbiamo fatta da qui. Ringrazio al G-Motosport Italia, Yamaha per il lavoro, e il mio babbo, gli sponsor, mia mamma che mi sottogliono. A domani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.